Il commissario sub nominato mi ha chiamato ieri sera tardi, mi ha offerto la massima collaborazione che era quello che io mi aspettavo e lavoreremo insieme e non vedo l'ora che arrivi per cominciare a continuare sul percorso di risanamento della sanità molisana. Il dopo Papa è già iniziato, il nuovo sub commissario alla sanità del Molise è l'avvocato Marco Bonamico, ex commissario straordinario del San Camillo di Roma, ex presidente della Federazione delle Aziende Sanitarie Italiane dal 2004 al 2009, DG del Formez, il centro di formazione e studi del Dipartimento della Funzione Pubblica. Bonamico è stato nominato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, Toma gli tende la mano anche se non nasconde che il metodo utilizzato dal governo non gli è piaciuto, eufemismo. Forse il presidente della regione avrebbe dovuto essere coinvolto nella disamina anche dei curricula, non sono stato coinvolto, ho preso atto della nomina e lavoreremo al meglio. Il commissario conta di proseguire il lavoro iniziato con Papa, razionalizzare gli acquisti delle prestazioni dai privati ed efficientare la spesa pubblica. Il problema, ha spiegato durante l'intervista, è il blocco all'extra budget agli extra regionali, limite che può essere innalzato solo con un intervento del governo. Vorremmo cercare, prima di tutto, di razionalizzare questi acquisti, efficientare la spesa pubblica in sanità, ma vorremmo pensare in lungo anche a un'eventuale possibilità di creare un reparto pubblico, ma non solo di radioterapia. Poi ammette che la sanità molisana è finita nell'occhio del ciclone ed è attenzionata dai giudici. È un po' sotto l'occhio di tutti, dei giudici, dei pubblici ministeri, ma è giusto che sia così. Ad incalzarlo ci sono anche le telecamere di fuori dal coro, trasmissione in onda su Rete4, interessata alle vicende sanitarie molisane e al caso radioterapia. Il commissario annuncia che chiederà ad Agenas un report per capire quanto pagano le altre regioni per ricevere le prestazioni radioterapiche erogate in Molise dal Gemelli per conto del servizio pubblico. Stamattina appena finiamo queste interviste invito anche l'Agenas a farmi un rapporto, un report sui costi di radioterapia delle altre regioni perché voglio confrontare, voglio vedere... Sotto il profilo economico non sono convinto, voglio approfondire. Toma infine dà anche una valutazione politica di quanto accaduto nelle ultime ore e spiega che terrà la schiena dritta. Secondo l'opposizione Presidente un'ultima cosa è in atto una resa dei conti nel centrodestra, lei come commenta? Io devo rendere il conto, questo è vero, il mio conto lo devo rendere al governo per quel che mi compete, lo devo rendere alla Corte dei Conti quando mi chiamano, lo devo rendere ai cittadini quando sarà il momento di renderlo. Poi se qualcuno vuole che io renda conti anche a notabili, a papabili, a interessi forti, non ho intenzione di renderlo questo conto.